gentili telespettatori buona giornata il movimento 5 stelle pronto a sorpassare la lega potrebbe presto diventare anche il quarto partito italiano partito democratico e fratelli italia distanti lo 0,3 per cento forza italia guadagna lo 0,8 è il sondaggio uscito sulla stampa fatto dall'istituto demoscopico di alessandra ghisleri euromedia research la lega c'è il pd primo partito al 19,5 secondo partito fratelli italia al 19,2 entrambi statici con solo un più 0,1 rispetto alle precedenti rilevazioni a seguire ci sono due partiti che hanno pagato negli ultimi giorni la lega di matteo salvini al 17,6 seguita dal movimento 5 stelle al 16,2 una distanza di 1,4 per cento cresce forza italia dello 0,8 che arriva all'8,1 infine anche azione di carlo calenda guadagna lo 0,7 si porta al 4,5 per cento il centro destra vanta un 45 per cento delle preferenze degli italiani ma vanno anche aggiunte le altre liste come udc eccetera eccetera dall'altra parte pd e 5 stelle hanno il 35,7 quindi una distanza di 9,4 per cento in più per il centro destra io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata